abbiamo intervistato gente di livello e questa gente o è stata pagata o comunque è stata contattata da noi in prima persona però poi se vai a scrivere sul Corriere dello Sport il Corriere dello Sport è che magari ti dà determinati ingressi ti dà determinate possibilità questo perché? perché si vede che lo stesso Corriere dello Sport ci mette più voglia, passione e determinazione di molta altra gente che scrive su TV Wrestling lo stesso Corriere dello Sport incarnato in Marco Ercole in Marco Ercole crea più visibilità di noi e conseguentemente queste fonti legate alle varie compagnie legate ai reali atleti danno queste possibilità e quindi ci ritroviamo magari in Marco Ercole che domani ti intervista un Cody Rhodes così a caso ma questo perché succede? senza nulla da togliere parliamo di una testata con i controcoglioni parliamo di un giornalista con altrettanti controcoglioni però è anche vero che noi potremmo arrivare a queste circostanze ma siamo noi a non volerlo ed ecco che si arriva a tutto ciò ma comunque rimane di fatto che il discorso di Ernesto e di Nicola Antonio è un discorso condivisibilissimo è un discorso che ci sta tutto è oggettivo è oggettivo sicuramente ma spero anzi no è soggettivo scusa è soggettivo però poi va attraverso un limbo di oggettività sinceramente perché io personalmente le condivido le sue parole anche io condivido le sue parole e quindi che succede? succede che spero faccia riflettere un po' tutti e si creino le situazioni decisamente più pacifiche dove la gente magari apra il terzo occhio e capisca un po' la situazione comunque il show della IPW veramente io alzo le mani non ho altro da aggiungere a quello che hai detto tu ripeto già citato nell'episodio 192 lo ridico anche qui sono soddisfatto assolutamente io fino adesso non ho ancora visto uno show brutto guarda io della IPW li ho visti diversi no no non dell'IPW non dell'IPW io intendo in generale io ogni volta che sono stato presente a qualcosa non sono mai andato via scontento c'è qualcosa che allora il discorso è questo un vero fan di wrestling in verità non esce mai scontento da un palazzetto è anche vero che ci sono magari degli elementi che ti fanno storcere il naso io sono il primo a dire di non aver assistito alla miglior WrestleMania di sempre ho assistito a una buona WrestleMania è un'emozione unica mi fa storcere il naso che non sia stata la migliore di sempre sì ma sono insoddisfatto dell'esperienza no assolutamente cioè io sono sempre quella persona che se va uno show di wrestling prima dice ok ti devi aspettare questo certo io non vado dato che stiamo un po' sparando a zero io non vado ad uno show della All Elite sperando di vedere un match con una storyline dentro che sia un match dei Bucks mettiamo così sì oppure non mi aspetto non vado ad uno show della WWE pensando che magari quello show possa essere un match a 10 stelle se vogliamo citare Meltzer certo non ci vado con questo quando sono andato a vedere la Dream sapevo che sarebbe stato uno show in one shot con una storyline all'interno del match pressoché inesistente ma a livello qualitativo in ring specialmente dal lato dello strong style giapponese avrei visto quello avrei visto uno show della New Japan per la maggior parte dei match e questo ho visto se io fossi andato alla Dream pensando ok devo capire quello che c'è dietro questo match o come deve andare questo match magari che cosa possono fare la prossima volta non ci andavo questo è un discorso che posso fare se vado in Civ è un discorso che posso fare se vado in in IWA è un discorso che posso fare se vado in Weva è un discorso che posso fare se vado in Bologna Wrestling Team nell'IWS se non sbaglio è la federazione quella che c'è a Torino il Rising magari non me lo aspetto o magari mi aspetto determinate cose ma non tutto me lo aspetto in Milano Wrestling Federation ci sono delle ragnatele ben tessute e quindi mi aspetto mi aspetto continuità mi aspetto coerenza io per esempio mi aspetto qualcosa di interessante proprio dalla Rising perché il 25 giugno ci sarà il loro show con Alex Flash quindi vedremo una situazione Siv Rising Sun quindi mi interessa parecchio e sono curioso di capire io davvero se ne ho occasione cercherò di andare almeno per vedere quello lì per vedere la Rising e capire un attimo ci sta come andrà la situazione insomma vedremo un po' poi dunque prof vogliamo passare all'altra tematica della puntata quindi vai vai lo spusting tanto secondo me sono abbastanza veloci questi beh penso penso di sì penso di sì adesso vediamo un attimo intanto accento una leggera anche perché il buon Mauri Maul il buon Mauri Maul è il nostro Mauri Maul è il nostro referente degli sboosting cioè quando c'è lo sboosting c'è lui lui è presente in chat lui c'è sempre intanto fai vedere che cosa hai voglio aprire un attimo eh di niente Gioda ma come sempre noi siamo sempre qui a disposizione vostra per qualsiasi cosa vogliate chiedere ehm anzi ribadisco se avete se volete delle non dico info delle dei chiarimenti delle situazioni cioè io io ve le do almeno senza peli sulla lingua e senza preferenze vabbè ma come è giusto che sia io per sapere non mi sono mai fatto paura a dire le cose come stanno sia nella vita privata sia in quella lavorativa sia in questa pseudo giornalistica del del breast io ho un buon un buon rapporto con con la iwa solamente perché ci sono stato dentro e conosco piacentini da sei anni solo per quello ma non perché magari lo possa lo vado a preferire ad altri prodotti mi piace quello che fai quindi vado ai suoi show allora in 2022 series one series one con trading cards appunto di impact wrestling vediamo se all'interno di questo pacchetto ci sarà l'autografo di lady frost jonah oppure mickey james dai speriamo io lo so che tu ce l'hai già però spero mickey james dai mickey james non ho l'autografo solo la foto ah beh allora speriamo che ci sia lei vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' allora prima carta intanto prima carta mickey james non è autografata questa qui attenzione carte è abbastanza cartone ok è cartone va bene però fatte abbastanza bene belle foto onestamente attenzione 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 jonah vabbè qua ci saranno tutti quelli ci saranno tutti quanti quelli presenti sulla copertina del box questa non è autografata abbiamo lady frost anche qui ovviamente non autografata masha slamovic parliamo di no tizione di impact che sta tranquillamente squociando o chiunque chiunque attenzione qualcuno che piace molto al prof mike bailey grande bailey speedball che lotterà proprio giovedì contro la redokid in un match di qualificazione valido per uno spot all'interno dell'ultimate x per il titolo x division mamma mia se non aspetta slammivertari w morrissey grande w morrissey w morrissey grande stile grande stile è tornato nominato proprio poco fa l'aredo kid grande l'aredo ribadisco affronterà giovedì mike bailey in un match di qualificazione dell'ultimate x di slammivertari per il titolo x division abbiamo rag singh rag singh signori rag singh ce ne frega una mazza abbiamo tom any fan tom any fan signori commentatore di impact abbiamo oh eccolo qui che è uscito eccolo qui allora ragazzi questo è stato eccolo qui quindi è giona no 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 è mickey james yes autografo di mickey james signori e signori questo è stato proprio autografato in persona da mickey james ne sono stati autografati questo è il sesto su cento quindi potete ben capire che esistono trecento pacchetti di queste carte dove in questi trecento pacchetti sono disponibili rispettivamente cento autografi di lady frost cento autografi di giona cento di mickey james ma attenzione attenzione c'è una card speciale all'interno di questo ecco qua una card appartenente al passato ex campione del mondo di impact wrestling leader e membro dell'aspetto come della rising la rising up rising se non mi sbaglio comunque stand up for professional wrestling questo è il suo motto drew galloway oh fantastico ok questa di mickey james questa me la metto da parte questa autografata sono molto contento di averla trovata perché io speravo lei o giona onestamente nulla da contro lady frost ma speravo più in lei onestamente sono contento queste cartine invece le rimetto a posto le rimetto a posto giusto per conservarle in modo decisamente più dignitoso eccole qua e questa di mickey james autografata la metto insieme ai miei memorabilia bene io cambio perché prego prego ragazzi io non ho carte autografate oggi però ho questo che è un'autentica chicca dato che mi è arrivato sigillato power car series invece ho messo qui ricevute tutto con l'autografo di mickey james sono molto 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 contento national wrestling alliance national wrestling alliance io ragazzi le apro troverete troveremo dei volti conosciuti queste qua sono di ulti cioè sono abbastanza recenti penso dell'anno scorso forse o di un paio di anni fa dentro ci sono sicuramente no anzi non dico niente perché li vedremo e la cosa molto bella di queste carte ragazzi è che sono tutte quante disegnate a mano quindi sono veramente disegnate a mano è roba molto interessante cioè non sono dei disegni 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 sono davvero contento di aver acquistato queste carte veramente contento grazie del follow capitano buggy dove sei dove sei capitano buggy quindi sei un fan di one piece allora ragazzi questa è alisinkey ex sienna posso parlare su nome sasha guarda te lo dirà il buon messaia mentre io faccio vedere le carte della nw8 che mi sono appena io sto un attimo posando i vari memorabilia che tra l'altro a proposito ne approfitto anche per far vedere una piccola dedica del buon d3 della scorsa domenica con questo autografo grazie per il sostegno ad aldo d3 daniele identice da cagliaro ricordo ricordo al capitano buggy anche che se vuole dato che è appena arrivato intanto noi abbiamo tutti quanti gli spazi gli slot per esempio questa sera si andrà a parlare di di raw i prossimi giorni di nxt noi andiamo io e il buon messaia sempre il giovedì a parlare di un po' di tutto però messaia prego che cosa ne pensi sì torno al commento sì tu intanto sbusta pare che sono belle belle belline belline davvero sì 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 molto belle torno a questo commento per dire cosa che la situazione non è ancora totalmente chiara quindi logicamente ci sono ancora dei dei dubbi in merito ma da quello che sto leggendo un po' il giro sul web pare siano state fatte delle promesse a Sasha e Neomi promesse che non sono state mantenute c'erano dei piani per questa notte poi logicamente questi piani sono stati cambiati e yeah oh Eli Drake meraviglioso meraviglioso oh pazzo ricca grande Riccardone di Beri ciao Riccardo come stai spero bene facci sapere in chat dai rivediamoci Rick cavolo camiglie bellissimo quindi c'è questa situazione abbastanza ingarbugliata dove ci sono stati poi degli stravolgimenti dei piani Sasha e Neomi non hanno apprezzato questo cambiamento in corsa e logicamente loro hanno scelto di posare le cinture sul tavolo e di non presenziare allo show ecco innanzitutto c'è capitano che dice per voi è giusto licenziarle entrambe ok mettiamola così in questo business determinati errori purtroppo vengono effettuati fosse stata un'azienda normale cioè io sono il primo a dire che magari sono cose che non mi vanno a genio nel mio lavoro ma non per questo io devo prendere e andarmene via senza o perlomeno sia che sia con un minimo di avvertenza sia senza avvertimenti alcuni come fece a suo tempo sia in punk però non mi sembra un comportamento adeguato grazie a tutti